benvenuti nella nostra esclusiva video visita della casa di luisa oggi siamo a mezzano di ravenna in via carrai alecchi per vedere questa splendida casa abbinata prima di immergerci nei dettagli delle stanze interne vogliamo mostrarvi tre mappe che illustrano la comoda distanza da importanti punti di interesse le scuole la piazza principale e la vivace città di ravenna una volta esplorato il quartiere vi invitiamo a dare uno sguardo alla facciata della casa presenta una tinteggiatura impeccabile e dettagli di sicurezza importanti come un portoncino blindato in ferriate e persiani in alluminio alle finestre non solo esteticamente accattivante ma anche funzionale e sicura e dopo aver ammirato il fronte eccoci all'interno per mostrarvi gli affascinanti spazi che questa proprietà offre al piano terra sarete accolti da un ampio open space che accoglie la zona salotto e la cucina pranzo l'ambiente caratterizzato da una distribuzione intelligente degli spazi permette una facile divisione per adattarsi alle vostre esigenze quotidiane a completare il piano terra abbiamo un pratico bagno lavanderia finestrato e con doccia salendo al piano primo vi immergerete nella zona notte che vanta eleganti pavimenti in legno qui troverete una confortevole camera singola perfetta anche per ospiti o d'uso ufficio accanto alla singola una spaziosa camera matrimoniale dove potrete godere di momenti di riposo e relax completa questa zona un bagno raffinato e funzionale per soddisfare le vostre necessità quotidiane in aggiunta alla residenza principale non possiamo dimenticare il comodo corpo staccato che ospita un garage di 18 metri quadrati offrendo spazio per parcheggiare e proteggere la vostra auto e inoltre una spaziosa cantina di 36 metri quadrati ideale per riporre oggetti personali o creare uno spazio hobby la casa di luisa è un elegante casa abbinata di 123 metri quadrati formata da quattro locali è il nostro riferimento bille 803 contattaci per visitarla per fissare un appuntamento o per chiedere maggiori informazioni puoi telefonare allo 0 544 80462 oppure inviare una mail a info chiocciola agenzia contarini punto it seguici su facebook instagram e tik tok a presto ciao